Oggi vediamo come aumentare di peso in modo naturale, scientifico, ma soprattutto salutare. Cercheremo di capire quelle che sono le strategie dietetiche, di allenamento e tanto altro per passare da una condizione di sottopeso a una condizione ottimale come rapporto massa grassa, massa muscolare e altezza. Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi quindi cercheremo di parlare di un argomento assolutamente insolito per molti perché sì, ci sono soggetti che faticano a mantenere una buona composizione corporea, faticano a mantenere un peso nella norma perché tendenzialmente tendono a dimagrire in maniera estremamente naturale. È un video questo che me l'hanno chiesto in tantissimi e alla fine di questo video vi farò vedere due casi studio di due miei pazienti che sono passati dall'essere realmente secchi a una condizione ottimale per rapporto massa muscolare, massa grassa e altezza. Prima come sempre mi devo presentare, sono il dottor Mattepieri, biologo nutrizionista e personal trainer. In questi anni ho creato dei percorsi di crescita personale dove attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento, il giusto mindset porto i miei pazienti verso quello che è il loro potenziale, non soltanto per ottenere un risultato straordinario ma per mettere le basi per poterlo mantenere nel tempo, grazie alla cultura e alla consapevolezza perché soltanto da questi due fattori noi possiamo mantenere e implementare tutto nel tempo. E questo video nasce anche per questo, per farvi capire come bisognerebbe impostare una strategia per tutte quelle persone che tendono ad essere sotto peso. Ed è un video estremamente utile anche per i miei colleghi perché in studio vengono tantissimi pazienti seguiti da altri colleghi che non sono stati in grado di creargli un protocollo adatto per la loro specifica condizione perché purtroppo la maggior parte dei nutrizionisti, dietologi, dietisti sono specializzati nel far perdere peso alle persone quando in realtà ci sono tantissimi soggetti che tendono a dimagrire in maniera eccessiva. Sembra strano ma a livello della popolazione c'è un'enorme variabilità dal punto di vista metabolico c'è chi tende a ingrassare con estrema facilità ma anche chi tende a dimagrire con estrema facilità come vedremo tra poco. Quindi è importante comprendere le logiche per essere padroni delle proprie scelte. Ora quindi cerchiamo di capire perché questi soggetti tendono a dimagrire in maniera eccessiva. Ah e prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla ma per noi il vostro supporto è di vitale importanza per darci la possibilità di continuare il nostro lavoro di divulgazione scientifica semplice e pratica come piace a noi. Torniamo al video. Ora prima di tutto questi soggetti secondo la mia esperienza fanno due errori importantissimi. Il primo errore pensano di mangiare tanto cosa che in realtà nel pratico non è così e dall'altra parte si muovono anche tanto quindi hanno poche entrate caloriche e tante uscite. Pensano di mangiare tanto perché magari fanno un pranzo una cena molto abbondante ma poi magari non fanno la colazione saltano lo spuntino. pensano di mangiare tanto perché hanno un piatto molto voluminoso di cibo quando in realtà in quel piatto ci sono poche calorie perché magari stanno puntando a tutti quei cibi integrali salutari tipici delle diete volte al dimagrimento. Ecco che vedremo alla fine di questo video come non bisogna impostare una strategia in questo modo se si vuole aumentare di peso. Dall'altra parte tendono a fare naturalmente tanto movimento si è visto che le persone che tendono a perdere peso sono naturalmente attive mentre dall'altra parte le persone che tendono a ingrassare sono naturalmente inattive. Quindi capite che al di là della genetica di base a livello metabolico c'è proprio una questione comportamentale da migliorare e qui entra appunto cultura e consapevolezza perché se sconoscono queste cose se si comprendono le proprie caratteristiche poi si può adattare tutto di conseguenza. Ora prima di tutto che cosa quindi bisogna fare per aumentare di peso in modo naturale e soprattutto salutare? Perché all'inizio del video ho proprio citato questa parola salutare. Noi dobbiamo aumentare di peso aumentare anche di grasso, di massa muscolare ma sempre in un contesto di salute. L'errore che fanno molti è quello di ingozzarsi di mangiare tanto, di forzare la mano e quindi rischiano in pochi mesi di andare a ingrassare in maniera eccessiva specialmente di ingrassare a livello addominale e viscerale che è un tipo di grasso estremamente deleterio per il nostro organismo. Quindi noi dobbiamo fare le cose fatte bene come quando si vuole dimagrire bisogna fare le cose fatte bene nel tempo allo stesso modo quando si vuole prendere peso bisogna sapere esattamente che cosa si sta facendo. Ora la prima cosa da impostare è un surplus calorico questo surplus non deve essere estremo come ho detto deve essere di 200, 300, massimo 400 calorie al giorno. Più è estremo il surplus e più sarà difficile aderire a questa fase di ipercalorica. Per essere quindi sostenibile questo surplus noi dovremmo andare a selezionare tutti quegli alimenti che mediamente hanno una densità energetica alta al contrario un po' di una fase di dimagrimento dove si puntano tutti quegli alimenti con una densità energetica più bassa quindi cibi idratati, proteici, quindi proteine magre, frutta, verdura. Quando invece si vuole aumentare di peso in maniera sostenibile bisogna aumentare quelle che è la frutta secca aumentare l'olio aumentare gli alimenti che in pochi grammi ci danno tante calorie. Quindi va bene aumentare ad esempio i tanti carboidrati aumentare la pasta eccetera ma poi la cosa più importante è aumentare anche ad esempio i condimenti aumentare magari l'utilizzo di prodotti confezionati. So che per molti sembrerà strano ma in molti contesti specialmente per gli sportivi che hanno un metabolismo molto attivo sportivi di endurance è importante inserire anche degli alimenti abbastanza lavorati perché in pochi grammi appunto ci danno tante calorie quindi il Kinder Pingui ad esempio è un'ottima merenda per tutte quelle persone che tendono a perdere peso o che hanno necessità di avere tantissime calorie al giorno perché appunto l'errore è quello di pensare che per prendere peso eccetera noi dobbiamo comunque mantenere quelli che sono i canoni classici della dieta salutare anche se se ci pensate il concetto di sano è un concetto estremamente astratto cioè quello che per me è sano e fa bene per un'altra persona è il male in assoluto per me ad esempio il burro se contestualizzato può essere un alimento adeguato per un ortoressico è il veleno primario quindi bisogna sempre capire che cosa si intende per cibo salutare vi dico che a livello fisiologico non c'è un cibo buono un cibo cattivo un cibo che fa ingrassare che fa dimagrire che fa bene o che fa male bisogna tutto contestualizzarlo in base al soggetto che riceve quell'alimento perché il veleno lo fa sia la dose ma anche chi riceve quella dose perché se io do una merendina a un diabetico sedentario avrà degli effetti metabolici diversi rispetto a una merendina utilizzata da uno sportivo che ha una capacità ossidativa incredibile quindi capite che non c'è un giusto sbagliato bisogna sempre ragionare personalizzare sulle caratteristiche della singola persona e in questo contesto vi dico che sporcare un po' di più la dieta renderla un po' più densa di calorie anche da cibi considerati malsani è un'ottima strategia mantenendo sempre però una buona qualità alimentare che cosa vuol dire che frutta verdura proteine magre alimenti di stagione vanno sempre mantenuti il punto è che il surplus può essere chiaramente generato da altri alimenti non per forza super integrali con una densità energetica bassa prima di andare avanti messaggio pubblicità sponsorizzato da me stesso in questi anni studiando le solite diete dei soliti metodi metodi in colla ho creato i percorsi di crescita personale dove si lavora in maniera sinergica con l'alimentazione l'allenamento il movimento e il giusto mindset non soltanto ottenere un risultato straordinario ma permettere le basi culturali per poterlo mantenere perché ha solito dalla cultura e consapevolezza ottenere un risultato straordinario e migliorarlo anno dopo anno infatti all'interno dei corsi del coaching non soltanto hai un mio supporto sempre presente ma avrai anche la possibilità di accedere in maniera esclusiva all'interno di MP Academy un'academy creata appositamente per i miei perimenti dove all'interno potrai trovare dei webinar scientifici degli ebook con lo scopo di formarti e di istruirti per renderti una persona sempre più consapevole di quello che devi fare per creare la tua routine inoltre ti potrà arrivare a casa anche il manuale dei percorsi anche se vivi fuori dall'unione europea quindi qui sotto puoi trovare tutte le risorse disponibili per entrare e iniziare il tuo nuovo percorso per ricreste personale ora torniamo al video altra cosa importantissima da fare è non pensare che se siamo secchi non ci dobbiamo allenare non dobbiamo fare cardio dobbiamo stare fermi immobili no anche le persone che tendono a perdere peso con facilità si devono allenare specialmente con i pesi devono migliorare le proprie performance sportive per creare uno stimolo di adattamento perché se noi abbiamo un surplus calorico ci alleniamo abbiamo una buona stimolazione della massa muscolare eccetera quelle calorie vengono veicolate meglio a livello muscolare e riusciamo a prendere peso in maniera molto più salutare evitando di andare a ingrassare in maniera eccessiva dall'altra parte ci dobbiamo si muovere ma non in maniera estrema ma ci dobbiamo comunque muovere per mantenere una salute cardiovascolare quindi non dobbiamo diventare sedentari dobbiamo semplicemente gestire i nostri movimenti nell'arco della giornata e quantificarli soprattutto perché se naturalmente è fatto un lavoro molto attivo come può essere il cameriere o comunque sia un lavoro che vi porta a fare naturalmente 10-15 mila passi al giorno il cardio in questo contesto potrebbe non essere utile da inserire ma se siete comunque delle persone che tendono sia al sottopeso ma sedentari che fanno la vita da ufficio eccetera mi dispiace deludervi ma anche voi dovete fare movimento quotidiano sempre per mantenere una buona salute cardiovascolare e per andare a utilizzare tutte quelle calorie che in questa fase di percalorica state introducendo in maniera ottimale e funzionale ai vostri obiettivi quindi queste sono le due cose più importanti surplus calorico e allenamento qualitativo sia con i pesi che anche cardiovascolare quello che però vi posso consigliare da punti di vista dell'allenamento è non forzate troppo la mano col volume settimanale cercate di puntare sia a 3-4-5 allenamenti settimanali ma non pensate di dover fare 2-3-4 ore di allenamento a sessione cercate di fare degli allenamenti da 1 ora a 90 minuti belli intensi fatti bene con una buona qualità e saranno super sufficienti per stimolare correttamente la massa muscolare quindi se tendete al sottopeso tendete a avere buone capacità ossidative vi conviene non creare un volume estremo nella singola seduta ma magari spalmarlo in più sedute per mantenere una buona intensità senza però compromettere i recuperi muscolari perché la cosa più importante è capire quel volume ottimale che riesce a essere recuperato perché noi dobbiamo stimolare e poi recuperare e quindi il concetto di mangia e spingi è un concetto assolutamente valido un po' come il concetto di mangia di meno e muoviti di più ma come questo viene attuato come si crea il tutto è estremamente soggettivo da singola persona perché siamo tutti esseri umani ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche quindi è importantissimo creare un percorso sartoriale dove si lavora con l'alimentazione con l'alleamento con il movimento il giusto approccio al percorso perché in questo modo si è longevi nel processo si riesce a continuare anno dopo anno a migliorare e il limite primario di questi soggetti è che appena si fermano perdono tutto ecco che in questo contesto è vitale vitale lavorare per routine lavorare per quei comportamenti semi automatici che ci permettono di continuare il processo all'infinito quindi per questo che la cultura la consapevolezza conoscere queste cose è fondamentale per continuare a migliorare anno dopo anno perché altrimenti si fanno dei gran sprint si fanno dei sacrifici enormi e poi si torna sempre indietro bisogna comprendere quando magari c'è una sessione di esame bisogna comprendere quando magari si è particolarmente stressati o quando si ha poco tempo come continuare il tutto come continuare l'alleamento come continuare la dieta insomma bisogna adattare tutto in base alle caratteristiche ambientali quindi lavorative sociali che cambiano per continuare a migliorare anno dopo anno questi sono i fattori primari che portano a miglioramento non c'è un segreto non c'è la magia bisogna fare tutto anno dopo anno senza fare troppi passi indietro quindi bisogna sempre andare avanti progredire avere questo concetto di miglioramento costante di se stessi proprio perché tutto questo è estremamente poco meritocratico che cosa vuol dire che in base alla nostra genetica avremo determinati risultati ma sarà sempre frutto dei nostri geni della nostra epigenetica e quindi se siamo dei soggetti che tendono a dimagrire a perdere massa muscolare come sono in parte anche io dobbiamo essere costanti nel processo perché basta veramente poco bastano tre settimane un mese due mesi per perdere tutto quindi noi dobbiamo appassionarci al processo per essere costanti day by day ora fatta questa considerazione che per me è vitale all'inizio del video ho detto che vi avrei fatto vedere due miei casi studi due miei pazienti che da secchi sono passati a una condizione decisamente qualitativa il primo è Umberto che dà una condizione veramente secca è riuscito negli anni e parliamo di 3-4 anni di percorso a arrivare a questo risultato incredibile quindi con una buona massa muscolare con un buon tiraggio e vi posso assicurare con delle performance davvero estremamente qualitative all'inizio del percorso Umberto aveva lo stesso identico problema della maggior parte delle persone che tendono a dimagrire ovvero mangiano troppo non sono costanti e quindi fanno due passi avanti e 3 indietro nel tempo siamo arrivati ad avere una routine vincente a capire avere il giusto approccio mentale e in questo contesto lui a oggi sta continuando a migliorare dall'altro poi c'è Alessio che anche lui è passato da una condizione di sottopeso in maniera importante a una condizione estremamente estremamente qualitativa e ha tirato fuori una genetica che neanche lui pensava di avere quindi da questa base qui che era una genetica sfortunata sottopeso eccetera facendo le cose fatte bene anno dopo anno con la giusta programmazione è arrivato a un livello sopra la media e ha tirato fuori una genetica che nessuno pensava di avere quindi grazie all'epigenetica lui è riuscito a cambiare completamente il proprio organismo per sempre perché questi adattamenti se li porterà a vita e anno dopo anno lui sta continuando il processo di miglioramento proprio perché si diverte quando si allena è appassionato e quindi non smetterà mai e fra due tre quattro cinque anni probabilmente rifarò questo video sia Umberto sia Alessio avranno un fisico nettamente superiore alla condizione attuale quindi capite quanto tutto specialmente per quei soggetti che tendono al dimagrimento sia sul lungo periodo dobbiamo programmare negli anni dobbiamo fare un vero investimento nella nostra massa muscolare nelle nostre competenze nei nostri comportamenti per creare qualcosa di straordinario perché tutto questo se ci fate caso lo vedete davvero di rado in giro pochissime persone vi fanno vedere dei casi studio che hanno anni di percorso perché? perché se non si lavora su routine non si lavora su quei comportamenti semi-automatici se non si lavora sulla propria cultura e consapevolezza e non si lavora sul lungo periodo tutto sarà vano fate il percorso per l'estate ma poi ritornerete a settembre peggio di prima questo è un po' il segreto del successo programmare sul lungo periodo e essere lungimiranti ragazzi con questo video è tutto spero di avervi fatto capire come realmente si può passare da una condizione di sottopeso a una condizione ottimale dal punto di vista massa muscolare massa grassa e altezza vi ricordo che potete iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro di divulgazione scientifica semplice e pratica come mi piace a noi e ci vediamo col prossimo video grazie a tutti grazie a tutti